Musica Prevenire giocando, qual è il ruolo della medicina sportiva? Ne parliamo in questa puntata di Ciac Salute con l'ospite che è venuto a trovarci, il professor Michele Marzullo dell'azienda Policlinico Federico II. Benvenuto. Grazie, bentrovati, salve e non mi resta che ringraziare per questa opportunità che mi date di parlare di medicina dello sport. Entriamo subito nel vivo dell'argomento. Prima domanda, medicina dello sport, di che cosa si occupa? La medicina dello sport è una medicina multidisciplinare, praticamente coinvolge l'attività fisica, coinvolge tutto l'organismo. Coinvolgendo tutto l'organismo, ecco che entrano nella medicina dello sport cardiologia, fisiatria, ortopedia, endocrinologia, psicologia, perché c'è il cervello che è la fonte del movimento, se vogliamo. Insomma, medicina dello sport multidisciplinarietà. Ecco perché è una branca che avrà sicuramente un futuro, anche se oggi è considerata un po' la cenerentola, perché i risultati di quello che dice e che fa la medicina dello sport non si vedono immediatamente, ma si vedono poi nel tempo. Cioè è un investimento per il futuro. Abbiamo sentito la medicina dello sport, quindi coinvolge vari aspetti della nostra vita, anche il nostro stile di vita. E quindi che cosa comporta non praticare l'attività sportiva? Beh, una delle cause dell'inattività fisica è la sedentarietà. La sedentarietà è colpa di tanti malanni, di tanti malesseri, prima fra tutto la sindrome metabolica. La sindrome metabolica raccoglie diabete, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, obesità. Insomma, è qualcosa che ha anche una predisposizione genetica. Però che cosa è successo? Che con il periodo del dopoguerra, con la carenza di alimenti, era rimasta inespressa questa caratteristica genetica, per cui non c'era diabete, non c'erano ipercolesterolemia. Oggi con l'avvento del benessere anche alimentare, cattivo anche benessere alimentare se vogliamo, ecco che sta venendo fuori questa sindrome metabolica che è la causa poi di malattie cardiovascolari, endocrine e che sicuramente determina una pessima vecchiaia. Queste quindi le conseguenze di chi non pratica lo sport, invece quali sono i benefici? Beh, i benefici sono tanti. Innanzitutto benessere, benessere psicologico è fondamentale. Correre tra le campagne, fare una partita di calcio, andare in bicicletta, sicuramente allevia, diciamo, il benessere migliore, il benessere psichico, ci si fa sentire meglio, allontana dai problemi quotidiani. Poi, per quanto riguarda invece la parte clinica, l'attività fisica e prevenzione per tutte le malattie cardiovascolari, se vogliamo, soprattutto quelle a carattere aterosclerotico. Riduce, combatte l'ipertensione, favorisce il consumo di lipidi, quindi evita l'accumulo di colesterolo. Trigliceridi, favorisce un buon controllo glicemico, quindi allontana dal diabete. Favorisce, diciamo, una rigenerazione ossea che poi, soprattutto nelle donne, con la menopausa evolve nell'osteoporosi, quindi la previene. Osteoporosi che poi è causa di fratture spontanee, di dolori. Insomma, la medicina dello sport con l'attività fisica intende dire vivi meglio il tuo futuro più che il presente. Il presente, sì, c'è l'età giovanile che già ci fa vivere in maniera abbastanza bene. Invece, quello di cui ci dobbiamo preoccupare è dopo i 40 anni, quando cominciano i problemi cardiologici, i problemi articolari, i problemi muscolari. Per esempio, non fare attività fisica. La riduzione del muscolo, la sarcopenia, che è fisiologica nell'essere umano, dopo i 50 anni i muscoli cominciano a perdere tono e si va incontro a quella che è chiamata sarcopenia, riduzione delle fibre muscolari. Con l'attività fisica si ritarda questo effetto fisiologico che è importante per l'equilibrio della persona anziana, per evitare quelle cadute, una delle quali è quella che provoca la frattura del femore, che è di quanto di peggio possa avere una persona anziana. Come diceva, la persona che fa attività sportiva e fisica vive meglio il proprio futuro, si prepara al meglio per il futuro. Sicuramente l'esercizio fisico contribuisce anche a livello cognitivo. Certo. Per esempio, noi sappiamo che l'attività fisica si svolge già dalla vita intrauterina. Già il feto nuota, se vogliamo. Poi, dopo la nascita, comincia a gattonare anche quelle attività fisica nel primo anno di età. Successivamente c'è la scuola elementare e le medie, in cui l'attività fisica, anche se dovrebbe essere migliorata l'educazione fisica di scienze motorie nelle scuole, ma comunque si fa. Quando cominciano i problemi? Dopo i 20, 25 anni, 30 anni, si comincia a ridurre questa attività fisica e che cosa si perde? Si perdono quelle capacità motorie che sono state acquisite nell'infanzia per muoversi meglio. Quindi l'attività fisica serve anche a mantenere questi ricordi motori che man mano ci portano a essere più stabili, anche nella caduta, se vogliamo. Saper cadere è importante. E questo ce lo dà l'attività motoria, perché col tempo ci sono dei riflessi posturali particolari, che si chiamano di pronta difesa posturale, che si mettono in moto proprio con l'allenamento mentale, che ci evita delle cadute particolari. Non lo so, il gesto di una mano che protegge il corpo durante la caduta, oppure l'evitare di cadere sul femore, sono dei movimenti che vengono proprio appresi durante l'adolescenza, quando si fa attività fisica. Forse questa continuità finisce nel momento in cui aumenta però la consapevolezza e quindi magari entra in gioco la pigrizia? Entra in gioco la pigrizia, entrano in gioco degli impegni lavorativi, degli impegni familiari, per cui si riduce il tempo da dedicare allo sport, anche se si può benissimo ricavare uno spazio. Se vogliamo lo sport si può fare anche in casa, se proprio uno non ha tempo. Basta una ciclette e già quella è attività fisica. A volte c'è solo la ciclette. C'è solo la ciclette, non tocchiamo questo tasto, perché ho la ciclette ma non faccio mai in tempo, perché poi la sera sono stanco. Alla pratica dell'attività fisica, come abbiamo già anticipato, va comunque associato a un corretto stile di vita. Non si può fare soltanto sport e poi magari esasperare altri aspetti del nostro comportamento, della nostra vita? Sì, certo. Tornando alla domanda di prima, un attimo solamente, volevo dire che per esempio l'attività fisica nell'adolescente migliora anche le capacità prestative scolastiche. Un ragazzino che fa attività fisica, che fa sport, anche nell'apprendimento in classe è leggermente, si è visto, è uno studio anglosassone, è avvantaggiato rispetto a chi invece trascorre delle ore in poltrone a guardare solo cartoni animati o film. Questo per quanto riguarda la domanda precedente. Per quanto riguarda la successiva, gli stili di vita, bene, è chiaro che lo sportivo non dovrebbe fumare, è chiaro che lo sportivo dovrebbe mantenere un regime alimentare adeguato, è chiaro che questo si chiama in effetti allenamento ombra, cioè quello che non si fa durante l'allenamento nella vita di tutti i giorni bisognerebbe osservarlo, come per esempio non fare tardi tutte le sere, c'è un orario per andare a dormire, sono necessarie tra le 6 e 8 ore di sonno uno sportivo, quindi lo sportivo non può dormire tre ore la notte, rovinerebbe tutto quello che fa con l'allenamento. Quindi per quanto riguarda gli alcolici sono da evitare, anche se a tavola è consentito soprattutto il vino rosso in dosi adeguate da pasto, anche perché anche quella è prevenzione, perché sappiamo che il vino ha delle caratteristiche antiossidanti e antiaggreganti, il vino rosso in particolar modo con il resvetrolo, che è una sostanza che contiene l'uva in particolare, l'uva rossa. Anticipato la domanda successiva, già siamo a tavola, abbiamo scoperto che il vino ovviamente in giuste dosi è importante, si può bere, che cos'altro lei può consigliare dal punto di vista dell'alimentazione? Allora, chi fa attività fisica deve sapere che alimentazione e attività fisica sono un binomio inscindibile, non posso scegliere di fare attività fisica e poi mangiare in maniera disordinata o male o in maniera esagerata. È chiaro che ogni tipo di attività fisica o se vogliamo ogni tipo di disciplina sportiva ha delle caratteristiche energetiche, per cui se sono un maratoneta mangerò in maniera diversa da chi fa la partita a calcetto due volte a settimana, sicuramente le esigenze energetiche sono minore nel secondo. La cosa principale è che siano rispettate delle percentuali di alimentazione, come i carboidrati, gli zuccheri sarebbero, gli zuccheri sono fondamentali per la produzione di energia, ci sono degli zuccheri che servono per dare energia immediata, degli zuccheri che servono per fare dei depositi di carboidrati nei tessuti muscolari. Il maratoneta, per esempio, ha bisogno di depositi di glicogeno, di zuccheri nei muscoli per poter reggere per tutti i 42 chilometri. C'è una foto di Petri, un maratoneta, che proprio mostra come all'arrivo questo grande atleta si accascia, proprio perché non ha più riserve energetiche. Erano altri tempi, non c'erano gli integratori, non c'erano gli zuccheri pronti come le bevande attuali, non c'era la marmellata concentrata, il miele concentrato, che è quello zucchero che dà un'energia immediata. Quindi carboidrati. I grassi, i grassi servono, non fanno solo male. Guai se non ci fossero grassi nella dieta. È chiaro che questa percentuale di grassi deve essere del 20-30% massimo. Insomma, devono essere dei grassi particolari, meglio se vegetali, e noi nella nostra regione abbiamo l'olio d'oliva che è fondamentale, è un grasso vegetale e quindi ad alta fonte energetica. Poi ci sono le proteine, le proteine che sono le proteine animali e le proteine vegetali. Le proteine animali nella carne, bianca, rossa, nel latte, nei prodotti caseari, anche lì c'è proteina, come in alcuni vegetali. E poi ci sono gli elettroliti. Gli elettroliti sono fondamentali, soprattutto il sodio, il potassio, il calcio, il ferro, nel sesso femminile. L'atleta di sesso femminile che da sotto, insomma, tipo i maratoneti, gli atleti professionisti del basket, della pallavolo, del nuoto, tutte le atlete hanno una carenza di ferro. Ecco che in queste atlete bisogna favorire sicuramente l'assunzione di alimenti che contengono ferro. Basta pensare agli spinaci, alle verdure, basta pensare alle lenticchie, ad alcuni legumi. Non è difficile. Noi non siamo dell'Unione Sovietica, noi viviamo in una terra in cui la dieta mediterranea tanto decantata ci ha messo a disposizione tutti gli alimenti per essere diciamo competitivi col mondo intero dal punto di vista alimentare. quindi per l'atleta meridionale, italiano, questo problema se fatto in maniera oculata non sussiste perché basta osservare la dieta mediterranea con la famosa piramide ecco che facciamo prevenzione, ecco che forniamo energia per l'attività fisica, ecco che forniamo elettroliti e vitamine per i nostri muscoli, per gli enzimi, coenzimi, perché durante l'attività fisica il muscolo diventa un laboratorio che lei non immagina neppure, cioè ci deve essere una produzione del famoso ATP che gli studenti odieranno perché in qualsiasi schema di biochimica si trova questa ATP che è la produzione di energia, è la fonte di energia che nell'atleta non è che è importante che deve essere prodotto in una notevole quantità ma deve essere prodotto velocemente, cioè il muscolo ha necessità continua di produrre energia altrimenti crampi, dolori, blocchi, infortuni muscolari, tanti infortuni muscolari quando non c'è una buona alimentazione che integra i prodotti che il muscolo sta consumando. Professore, prima di capire qual è lo sport più indicato per i più piccoli vale la pena anche di fare una precisazione proprio sull'aspetto dell'alimentazione noi prima lo anticipavamo a microfoni spenti e parlavamo di quanto a volte il rigore sportivo anche diventa poi una gabbia per gli atleti quindi come si può evitare di arrivare così in là e quindi di far diventare poi una passione una vera e propria galera. Una galera, perfetto. Beh, questo noi lo stiamo affrontando anche con l'aiuto di un esperto nel nostro reparto al Policlinico Federico II con l'aiuto di uno psicologo perché non bisogna pensare allo psicologo come una persona che cura chi ha problemi psichici no, lo psicologo è fondamentale per dare un aiuto per dare dei consigli e anche per vedere qual è il problema per capire perché prima di dare consigli bisogna capire qual è il problema dell'atleta. che succede? Che molti atleti vedono questa attività fisica come una ricerca di fare sempre meglio. Innanzitutto ogni organismo ha le sue caratteristiche. Innanzitutto bisogna capire da che età ha cominciato a fare l'atleta perché se l'atleta comincia a 40 anni non può pretendere di avere gli stessi risultati di chi l'ha iniziata a 10 anni. quindi certe volte c'è una rincorsa al successo al miglioramento che degenera poi in alterazioni patologiche una fra le tanti per esempio l'anoressia l'anoressia quel dimagrimento che molto spesso fa assumere non so se lei ha mai incontrato quei maratonetti proprio che fanno 5 o 6 maratoni all'anno per esempio che è una cosa assurda le maratoni se le possono fare per un atleta d'elite 2 ma proprio un campione del mondo 3 all'anno ma c'è gente che ci partecipa ogni mese quindi tutto questo porta a un decadimento fisico che fa diventare poi nociva l'attività fisica e nell'alimentazione badano più che alla qualità dell'alimento alla quantità perché pensano che mangiando tanto possono rigenerare le loro energie ma l'importante è la qualità degli alimenti alimenti che come abbiamo detto precedentemente contengano nelle dosi giuste i carboidrati proteine grassi sali minerali vitamine e così via prossima domanda qual è lo sport più indicato per i più piccoli per i bambini innanzitutto lo sport che li fa divertire se no non lo fanno in genere però per un fatto proprio fisiologico come accennavo all'inizio della sua intervista il nuoto è quello che si predilige ci sono dei bambini che lo cominciano già pochi mesi cominciano a frequentare le piscine anche perché è più naturale diciamo il loro essere in acqua perché provengono da un ambiente acquatico come quello dell'utero materno quindi il nuoto poi man mano con la crescita sarà il bambino stesso a orientarsi verso una disciplina ma le due cose fondamentali che deve fare un bambino ed un adolescente o nuotare o correre per acquisire quelle capacità aerobiche che poi gli consentiranno anche di giocare bene a pallavolo a calcio eccetera non c'è allenamento migliore della corsa o del nuoto per poter fare bene tutte le attività sportive poi alcuni colleghi pediatri hanno stilato più o meno delle tabelle che indicano un'età per iniziare l'attività agonistica per esempio il nuoto oggi si comincia a livello agonistico perché non agonistico lo possono fare già pochi mesi otto anni gli sport di gruppo come la pallavolo il basket il calcio consigliano undici anni sono sport da contatto in cui diciamo deve esserci già un'architettura osteomuscolare adeguata il ciclismo otto undici anni insomma ci sono delle tabelle che noi nel siamo obbligati anche a seguire nella certificazione per concedere l'idonetà agonistica allo sport restando sempre su questa domanda un'altra cosa cerchiamo di lanciare anche un messaggio ai genitori che ci stanno guardando perché come lei diceva la cosa principale è che il bambino faccia uno sport che lo appassiona tante volte quando sentiamo parlare dei genitori sentiamo di pomeriggi pieni e intensi di attività a parte i compiti che vengono assegnati dagli insegnanti quindi tante volte i bambini non riescono non hanno nemmeno il tempo di appassionarsi perché sono talmente tante le attività che li impegnano anche a livello cognitivo che forse non hanno e non raggiungono nemmeno la consapevolezza quindi come cercare di limare e quindi di assegnare anche le giuste attività ai nostri figli mi fa piacere che ha toccato questo tasto genitori figli perché molto spesso l'attività sportiva del bambino la sceglie il genitore semmai è un desiderio nascosto del passato voleva diventare calciatore il papà e quindi spinge il bambino a giocare a calcio lo sport va scelto dal bambino il bambino si deve divertire altrimenti lo fa male lo fa male e si fa male perché quando fai qualcosa un gesto atletico fatto male porta anche all'infortunio il problema delle ore di sport beh questo è un problema che dovrebbero più pedagogico effettivamente io vedo seguo tutta la palla a nuoto e il nuoto campano napoletano in particolar modo e vedo degli orari di allenamento effettivamente notevoli due ore tutti i giorni la gara la domenica qualche volta fanno il rientro alle sei del mattino fino alle sette e mezza e poi vanno a scuola beh effettivamente questo ragazzo può arrivare in classe o sui libri a casa nel momento di studio può arrivare deconcentrato qual è l'abilità l'abilità è di saper mediare di non far demordere dall'attività che il ragazzo fisico che sta facendo con con piacere e non far decadere la parte culturale perché poi l'Italia non ha solo bisogno di sport ha bisogno anche di cultura noi siamo una terra che è fonte di cultura avere degli sportivi e poi asini beh questo non sta bene neanche a me quindi queste cose andrebbero controllate meglio io sarei del parere di aumentare le ore di educazione fisica scolastica in modo da ridurre poi il percorso pomeridiano e quindi favorire un po' più lo studio a casa quindi effettivamente io non so mi pare che siano due o tre ore settimanali l'educazione fisica quando si fa perché molti mi dicono che addirittura o non ci sono palestre nelle scuole quella è fondamentale noi pratichiamo prevenzione benessere psicofisico eccetera e poi diamo l'esempio che nelle scuole dove è la fonte di educazione della prevenzione non ci sono né palestre né docenti che il numero adeguato per poter far muovere questi ragazzi perché l'importante non è fare attività sportiva ma fare movimento appunto fare movimento è importante quindi per gli anziani quanto lo sport diventa indispensabile anche per vivere meglio allora facciamo due categorie di anziani l'anziano che ha sempre fatto sport anche da giovane è un conto l'anziano che intorno ai 50 60 anni vuole cominciare l'attività fisica deve prendere altre altre strade dal punto di vista del movimento parliamo di chi ha fatto già sport chi ha fatto già sport conosce già il gesto atletico conosce già la pronta difesa posturale nella caduta quindi si sa difendere meglio dal mentre inciampa mentre incontra un ostacolo sicuramente è più allenato ecco e quindi possiamo lasciargli fare quello che ha fatto in gioventù con dei ritmi e dei tempi sicuramente ridotti e questo fa bene anche soprattutto dal punto di vista psichico e soprattutto nel ritardare quel processo di riduzione della fibra muscolare che è fonte di perdita di equilibrio l'anziano che non ha mai fatto sport dopo una certa età non riesce a stare per un po' di tempo fermo su una sola gamba perché c'è questa sarcopenia che riduce la forza contrattile che mantiene lo scheletro in maniera eretta c'è poi l'anziano invece che decide di praticare attività fisica non l'ha mai fatto se l'ha fatta solo fatto camminate ma non attività sportiva beh questo ci sono le palestre protette sono le più indicate il pilates essere seguiti da un istruttore un laureato in scienze motorie in queste palestre che gli fa fare degli esercizi di contenimento di abilità nel muovere le articolazioni in modo da evitare la ruggine in queste articolazioni e contemporaneamente favorire anche il benessere psichico di un'ora in compagnia perché la socialità il pilates si fa sicuramente in gruppo in gravidanza invece consigliata beh in gravidanza anche qui vale se una donna che già faceva attività fisiche è un conto perché tornando allo stesso discorso capacità di mantenere l'equilibrio capacità di evitare le cadute soprattutto per la colonna vertebrale ci sono degli esercizi che perché va in iperlordosi con la con la presenza del della cosiddetta come diciamo noi la pancia e e chiaramente favorire questa mobilità della colonna io dico che tutto si può fare purché ci si capisca il limite appunto come si capisce il limite come si capisce il limite il limite si capisce quando comparano dolori quando compare un senso di affaticamento di affanno quando compare una leggera perdita di equilibrio è lì che bisogna fermarsi significa che sei arrivato allo stadio dove puoi arrivare dove le tue caratteristiche genetiche antropometriche abitudinarie le tue caratteristiche delle abitudini di vita quello che hai fatto da ragazzo ti dicono adesso ti devi fermare quello è il limite perché poi se si va oltre quali possono essere i disturbi o i traumi il disturbo parliamo in generale dei traumi se si va oltre beh ci sono a parte i traumi io parlo i traumi quad vitam che riguardano il cuore se uno non è allenato chiaramente oltre una certa soglia il cuore dà i suoi segni e non sia mai ci sia una patologia misconosciuta cioè che uno non sa di avere questo può essere anche pericoloso per la vita poi ci sono quad valetudine mi dico io cioè le patologie che riguardano lo scheletro l'apparato muscolare ecco che qui si va incontro a delle patologie traumatiche che sono debilitanti anche perché ti tengono lontano dall'attività fisica e molto spesso te la fanno abbandonare come problemi al ginocchio frequenti distorsioni di caviglia che è il trauma più frequente nell'attività sportiva e soprattutto io dico sempre per prevenire questi traumi fare una valutazione posturale vedere io posso correggere qualcosa che nel mio corpo non è in equilibrio siamo nel 2017 si può correggere quasi tutti deve essere proprio un dismorfismo cioè una patologia a cui si è arrivata tardi ma in effetti tutto è corregibile poi non parliamo dei paramorfismi cioè i paramorfismi sono quelle patologie invece che sono legate ad atteggiamenti del corpo per abitudini lavorative abitudini scolastiche i nostri ragazzi che stanno in una posizione particolare al computer ecco quelli sono dei paramorfismi che oggi con tutte le manovre posturali la ginnastica posturale il famoso Mezir quella ginnastica posturale che corregge sia l'apparato respiratorio ti dà un ritmo nel respiro corregge anche delle alterazioni dello scheletro abbiamo parlato già di maratone di gare podistiche ciclistiche sono tantissime le manifestazioni soprattutto a carattere puramente amatoriale a cui spesso ci avviciniamo un consiglio per questa categoria di persone soprattutto per non gli sportivi per chi non non manca mai a queste manifestazioni però non è allenato ottima domanda perché questo è il problema principale fare delle visite mediche adeguate prima di iniziare l'attività sportiva qual è la visita è quella che in effetti l'Italia che è all'avanguardia sotto questo aspetto dal punto di vista legislativo dice di fare obbligatoriamente c'è l'idoneità sportiva che va fatta con dei criteri di prevenzione innanzitutto uno screening cardiologico completo che deve consistere nella storia dell'atleta conoscere se ci sono patologie ereditarie o predisposizioni ereditarie fare un elettrocardiogramma non ci vuole niente cinque minuti per fare un elettrocardiogramma di base ma sapesse quante patologie possono venire fuori e che semmai l'atleta sapeva di non avere poi ci sono delle patologie invece che possono venire fuori con i test da sforzo il test da sforzo è fondamentale per chi vuole fare attività fisica attività fisica che cos'è uno sforzo quindi quale occasione migliore di fare questo sforzo in maniera controllata in maniera monitorata in modo da vedere che succede quando dai il massimo durante una corsa durante una notata e questo può far venire fuori delle patologie veramente a volte misconosciute io quante volte ho trovato degli elettrocardiogrammi di base cioè al riposo perfetti durante la prova da sforzo questi atleti 35 anni 40 anni hanno avuto dell'ischemia un'ischemia miocardica cosa che se succede durante una corsa purtroppo non c'è scampo perché per quanto i soccorsi possono essere tempestivi per quanto ci sono dei comuni come mi piace citare Guardia San Framondi con un'associazione Amici del Cuore che ha pensato a distribuire defibrillatori in tutti i posti dove si fa attività fisica e quindi a fare questa prevenzione ma c'è sempre quel tempo che richiede l'emergenza cioè i tempi devono essere rapidi allora screening cardiologico se ci sono delle patologie correzione delle patologie oggi è difficile non correggere una patologia cardiaca veramente è difficile si corregge quasi tutto oltretutto si sono ridotte notevolmente quelle cardiopatie congenite che una volta erano disastrose con l'avvento dell'eco prenatale quindi si sa già prima se un bambino ha delle caratteristiche organiche a livello cardiaco che sono incorreggibili o lo conducono a una vita poco generosa insomma screening preventivo e dopo aver fatto quello per la vita che è quello cardiologico fare quello per evitare gli infortuni come le dicevo prima un controllo della postura vedere se gli arti hanno la stessa lunghezza se ci sono delle ginocchia valghe o vare per correggerli in modo da oggi si correggono con calzature particolari con dei plantari con delle forme di fisioterapia molto diciamo evolute insomma c'è la possibilità di vivere meglio e c'è la possibilità di vivere facendo attività fisica senza incorrere in rischi che ripeto possono essere rischi per la vita se sono cardiovascolari e rischi diciamo per la validità della persona se sono ortopedici ci avviamo alla chiusura della della trasmissione di questa puntata di Ciac Salute sulla medicina dello sport un'ultima domanda un ultimo consiglio per i nostri telespettatori la medicina dello sport è la chiave per la prevenzione? sì la medicina dello sport è qualcosa che io dico che è la sinderella la cenerentola delle medicine gli effetti di quello che fa la medicina dello sport non si vedono immediatamente è un investimento a lungo termine la medicina dello sport è la medicina preventiva tutto quello oggi ragazzi parliamoci chiaro ricevono non c'è più la visita scolastica la visita medica scolastica non c'è più la visita militare di leva che si faceva una volta che cosa incontrano per primo nella loro vita clinica come professionista il medico dello sport perché a otto anni comincia l'attività sportiva quindi ricevono una visita specialistica all'età di otto anni e da quella visita che viene fatta annualmente si possono correggere e prevenire tante patologie che poi consentono un allungamento e soprattutto più che allungare la vita io dico che la vita deve essere allargata più che allungare perché se deve vivere male è meglio non vivere invece è meglio vivere questa vita allargata come dice il nostro filosofo di crescenza cioè viverla vivere una vecchiaia serena e questo lo si può ottenere con i consigli che la medicina dello sport che è una medicina ripeto multidisciplinare perché coinvolge tutto l'organismo coinvolgendo tutto l'organismo coinvolge tutte le branche della medicina l'endocrinologia la psicologia la fisiatria l'ortopedia la medicina interna chi più ne ha più ne metta insomma la nutrizione ecco l'alimentazione qual è il messaggio migliore che si può dare sull'alimentazione se non attraverso l'attività fisica bellissimo messaggio di chiusura di questa puntata molto interessante di Ciac Salute per venire giocando io ringrazio di nuovo l'ospite che ha raggiunto i nostri studi il professor Michele Margiullo dell'azienda Policlinico Federico II che ha raggiunto i nostri studi quindi lo ringrazio nuovamente grazie professore e ringrazio tutti i telespettatori di Media TV e di Ciac Salute che come sempre ci seguite numerosi grazie alla prossima puntata grazie